Qualcuno è riuscito ad installare Windows 95 su un Apple Watch Serie 1 e ho deciso di mettere a confronto l'Apple Watch Serie 1 con il Nintendo NES. Sulle versioni europee ed americane del NES, i giochi venivano memorizzati su delle cartucce. La CPU del NES era ad 8 bit, funzionava ad 1,79 MHz nella versione NTSC ed 1,66 MHz nella versione PAL. La RAM era di 2 KB. Molte cartucce però erano in grado di espandere la memoria fino ad 1 MB. L'Apple Watch Serie 1 è un computer indossabile con una CPU a 520 MHz, 512 MB di RAM. La CPU dell'Apple Watch è 313 volte più veloce rispetto alla CPU del NES in versione PAL. L'Apple Watch contiene 512 volte la memoria RAM del NES, espansa al massimo. Se consideriamo la sola memoria di base, stiamo parlando di una differenza di 256.000 volte. Il divertimento non dipende dalla potenza di calcolo.